Mi sono messa la mano sulla coscienza, mi sono detta che faccio lasciare nene i guai, come fa senza te me? E allora ho deciso di finire la serie, ma guarda che lo faccio solo per lui, perché se era per te, già stavo da un'altra parte, hai capito? Ma sì, certo, ma come no? Invece a me mi risulta idola che te ti sei fatta il giro di tutte le produzioni di Roma, hai capito che non ti sei più a nessuno? Perché lo sanno tutti che sei briagona e sei pure ladera. Ma se? Che c'è? Ti devo dire una cosa brutta. Beh, dimmela. Ti ho fatto il malocchio. Come il malocchio? Eh, mi è capitato, mi lo mettevano a un prezzo buono, mi sono levata lo sfizio.